Cari amici animali umani di Striscia, siamo qui oggi a Contrata Valloni, ad Abriola, dove c'è un attrattamento di animali. Andiamo a vedere. Qui il cancello è aperto, vedete bene. C'è, che è aperto, possiamo andare a vedere. Ma chi sono sti, pazzo? Che ha capitato? Che capito sti, cazzo? Vogliamo qualche informazione. C'è l'informazione a te. Leva a te, leva a te. No, no, vai via, vai via. Capitano. Aspettate, è un'informazione, un'informazione. Non è assurdo un'informazione. No, è un'informazione. Ma spiegami un capitano. Ma partate di animali. Che resta è un capitano. Guarda, io, capito a te. No, capitano. Ehi, è un strumento, che è un strumento? Ehi, chi è il strumento? No, no, aspetta, aspetta. Andiamo a sapere l'informazione. Ehi, chi è? 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 Ehi, chi è?